Cuso, ormai è più di una settimana che a Fermilab hanno fatto la conferenza stampa sui risultati dell'esperimento muon G-2. Quando è che ne parli? Beh avete anche ragione, ma ho due scuse per il mio ritardo. Innanzitutto sono un po' lento a scrivere i video. Forse questo non dovevo dirvelo. La seconda però è meglio. Ho sfruttato l'opportunità di collaborare per la stesura di questo video con Matteo, Elia, Paolo e Lorenzo. Si tratta di 4 dottorandi, 3 presso l'Università di Pisa, uno a Tor Vergata, che fanno parte del gruppo internazionale di oltre 200 ricercatori che hanno collaborato all'esperimento muon G-2. Trovate un loro breve curriculum qui sotto in descrizione. Ma non perdiamo altro tempo. Ciao ragazzi, sono Marco per gli amici Il Cuso, benvenuti a una nuova puntata della Fisica che non ti aspetti. Per l'appunto, qualche giorno fa sono stati rilasciati i risultati di una serie di esperimenti condotti presso il Fermilab, in Illinois, durante i quali potrebbe essere stata fatta un'importante scoperta. Ma conviene procedere un passo alla volta perché non sarà facile. Innanzitutto partiamo dalle basi. Molte particelle possiedono uno spin. Spiegare in parole semplici cosa sia lo spin non è facile. Ci ho provato in un video di qualche tempo fa che vi lascio in descrizione. Diciamo però che è un numero quantico legato alle proprietà magnetiche della particella stessa. Per esempio è legato al momento magnetico tramite un numero, chiamato G-factor, che è l'oggetto di questo esperimento. Il modello standard prevede che, in prima approssimazione, il valore del G-factor del muone sia 2. Ma per misurarlo occorre prendere la particella, metterla in un campo magnetico, possibilmente intenso così si riesce ad avere una risposta più grande, e misurare la precessione del momento magnetico, un movimento rotatorio intorno all'asse individuato dal campo magnetico applicato. E così si prende un fascio di muoni, anzi di anti-muoni, e lo si butta in un campo magnetico di 1.45 Tesla, e si misura la precessione. Ma perché proprio i muoni? I muoni sono particelle elementari che appartengono al gruppo dei leptoni, come i più celebri elettroni. Hanno la stessa carica elettrica e lo stesso spin, ma sono circa 200 volte più massicci degli elettroni. Questa è una buona cosa, perché l'evidenza di una nuova fisica aumenta col quadrato della massa e quindi la differenza attesa è decisamente più intensa. Gli anti-muoni sono le loro antiparticelle. Le particelle tau sarebbero persino meglio, dato che sono 18 volte più massicce del muone, ma purtroppo hanno anche una vita media troppo, troppo breve. E dire che i muoni hanno una vita media di 2,2 microsecondi, che si allunga a 64,4 microsecondi per via della dilatazione del tempo relativistica. E quindi, anti-muoni. Come si crea un fascio di anti-muoni? Si parte da un fascio di protoni che viene schiantato contro un bersaglio generando un gran numero di particelle. Tra queste ci sono i pioni, particelle costituite da un quark e da un anti-quark. I pioni però rapidamente decadono in anti-muoni e il gioco è fatto! Si fa per dire. Il fascio viene poi fatto circolare in un anello di accumulazione grazie a un campo magnetico che tra l'altro provoca la precessione del momento. In queste circostanze il modello standard prevede un valore di g un po' più alto rispetto a 2, dovuto alle interazioni tra il muone e le varie particelle virtuali che vengono utilizzate per descrivere l'interazione col campo magnetico. Cosa significa? In pratica, ogni volta che il muone interagisce col campo magnetico, un'infinità di particelle virtuali si creano e si distruggono nelle sue vicinanze per una frazione di tempo. Si definiscono virtuali perché esistono solo durante l'interazione e non possono essere osservate da fuori. Però ogni particella extra contribuisce a spostare il valore di g e il modello standard ci dice quanto dovrebbe valere. E qui viene la parte interessante. Quali particelle virtuali fanno questo? Tutte. Tutte le particelle che possono esistere in natura e interagire in qualche modo con il muone contribuiscono a questo g. Solo che alcuni anni fa gli esperimenti condotti presso i laboratori di Brookhaven portarono a un risultato un po' più alto del previsto. Di pochissimo, ma più alto. Questo risultato non è abbastanza accurato da far gridare a una nuova fisica, ma abbastanza diverso dal valore teorico da spingere i ricercatori a continuare a indagare. Tra poco ci torniamo sull'accuratezza. E così si arriva ai test condotti al Fermilab, con un fascio di antimuoni più pulito e più intenso, e soprattutto rivelatori di ultimissima generazione. E quindi? Quanto vale G? Prima di proseguire una piccola precisazione. Sicuramente avrete visto grafici come questo e avrete forse notato che sull'asse delle X non c'è G, ma qualcos'altro. Quel qualcos'altro si chiama A con mu ed è definito come G minus 2 diviso 2. Visto che il valore di A con mu derivato da quello teorico di G e quello di A con mu sperimentale differiscono davvero di pochissimo, conviene moltiplicarlo per un miliardo e poi, per avere numeri comodi, si sottrae 1.165.900 e così si possono avere risultati compresi tra 18 e 21. Quindi il valore teorico dovrebbe essere di poco superiore a 18. E invece Brookhaven ha trovato quasi 21 e unendo i risultati del Fermilab si arriva a poco più di 20,5. Ma questa differenza è significativa? È stata trovata evidenza di una nuova fisica? Facciamo una breve ma importante digressione. Come conviene misurare questa differenza? Usando come unità di misura la deviazione standard. Quando leggete in qualche articolo che è stata fatta una misura, in realtà vuol dire che di misure ne sono state fatte diverse. E in fisica delle particelle questo diverse è spesso un numero assurdamente elevato, tipo 8 miliardi nel solo run 1. Boh, si prendono tutti questi dati e se ne calcola la media. E quello è il risultato dell'esperimento. Ma poi si calcola anche un altro parametro, chiamato deviazione standard o sigma, che rappresenta una misura di quanto i risultati si accumulano nelle vicinanze del valore medio. Più ravvicinati sono i dati, minore sarà sigma. Ma sigma serve anche per valutare quanto è probabile che un dato discordante dal modello lo sia effettivamente e non sia solo frutto del caso. Già, perché esiste una certa probabilità che il risultato di un esperimento differisca dal valore previsto per colpa di fluttuazioni statistiche. Ma la probabilità che questo sia il caso diminuisce all'aumentare della distanza tra i due valori espressa in unità di sigma. Il risultato di Brookhaven differiva dal dato previsto per 3,4 sigma. Questo vuol dire che c'è una probabilità su circa 4600 che il dato sia una fluttuazione statistica. È abbastanza per inneggiare una nuova fisica? Non ancora. I risultati del Fermilab hanno portato la distanza, migliorando il valore di sigma, a 4,2 sigma, che corrisponde a una probabilità su circa 40.000. È abbastanza? No. Ma manca poco. I fisici sono pignoli. Prima di gridare alla grande scoperta vogliono una ragionevole certezza e da qualche parte il limite deve essere posto. Questo limite è 5 sigma. Quindi siamo vicini. Molto vicini. Ed è per questo che sono state condotte altre due campagne di prese dati che in questo momento ricercatori come Matteo, Elia, Paolo e Lorenzo stanno analizzando per vedere se la precisione aumenta. Attualmente si sta facendo un quarto run e un quinto è previsto per il prossimo anno. E potrebbero anche esserci campagne effettuate su muoni normali, ossia con carica negativa, per vedere se c'è una qualche differenza tra materia e antimateria, argomento sempre molto interessante. Una prova del genere fu condotta a Brookhaven e il risultato era compatibile con zero, ossia nessuna differenza tra materia e antimateria. Anche il modello teorico verrà messo sotto osservazione per vedere se ci sono stati errori nei calcoli, che non sono affatto banali. Ma un momento. Supponiamo che si arrivi all'agoniato 5 sigma e che effettivamente sia praticamente fuori di dubbio che ci sia qualcosa di inatteso. Di che si tratta? Le opzioni sono moltissime. Potremmo stare assistendo all'interazione di particelle sconosciute con gli antimuoni. Che sia materia oscura o partner supersimmetrici non si sa. Oppure il problema potrebbe essere appunto nei complicatissimi calcoli che occorrono per sommare tutti i contributi al valore del G-factor. E quindi si continua alla ricerca del valore per questo sfuggevole fattore. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Un grazie immenso a Matteo, Elia, Paolo e Lorenzo per le risposte alle mie domande che sicuramente avranno trovato a tratti banali ma sono stati davvero disponibilissimi. Grazie, grazie, grazie. Ringrazio anche voi per essere arrivati fin qui. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e condividetelo con gli amici. Vi ricordo che su Docety trovate il mio corso introduttivo alla meccanica quantistica e su Quiproquark il corso di fisica per il liceo. Se non volete perdervi nessuno dei contenuti della pagina Facebook e di questo canale, almeno i più importanti, iscrivetevi alla newsletter. Qui sotto, tutte le informazioni. Io vi do appuntamento al prossimo video e mi raccomando, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate. Grazie.